Poter avvicinare le vittime di violenza intrafamiliare, quello di poter intervenire, di avere un'attrezzatura per intervenire su un problema che è un problema grave, un problema serio, ma che necessita per essere affrontato di una particolare sensibilità, che spesso negli strumenti ordinari delle forze di polizia, negli strumenti ordinari degli organismi istituzionali che sono preposti a questo tipo di attività non ci sono. Noi siamo particolarmente anche fieri e orgogliosi di poter confezionare questo regalo per questa festa e per questa occasione perché dimostra la capacità di sapersi adeguare alle necessità, saper ricercare e saper trovare uno strumento che sia utile a far emergere i veri problemi e a poter risolvere i veri problemi. Noi affrontiamo normalmente temi della sicurezza e li affrontiamo magari anche con delle analisi che sono fredde, che sono aritmetiche, che sono statistiche e spesso magari dimentichiamo che più delle volte per affrontare temi difficili come questo ci vuole intanto la capacità di lavorare tutti uguali insieme e poi la sensibilità per capire come affrontare i problemi. Questa è una dimostrazione, peraltro su un tema, quello della violenza intrafamiliare, della violenza sulle donne, della violenza all'interno della sfera familiare che è un fenomeno che rispetto a tutti i dati di tendenza della sicurezza, della sicurezza generale, della sicurezza reale, della sicurezza percepita, rispetto a tutti i reati che misurano il livello di sicurezza della sua percezione che tendono a diminuire, in particolare in questo territorio i reati intrafamiliari sono quelli che aumentano.